Un'escalation di furti e danneggiamenti alle aziende ha colpito negli ultimi mesi la zona industriale di Gela. Per cercare di arginare il fenomeno della microcriminalità, che come ha denunciato Confindustria, rappresenta un pesante freno ad un'economia già martoriata dall'assenza di commesse e di lavoro, si parte dal ripristino della pubblica illuminazione. Oggi fa sapere il dirigente responsabile dell'ufficio IRSAP di Gela, Maurizio Catania, verranno consegnati i lavori e l'illuminazione efficiente rendirà più efficace il controllo della videosorveglianza, che seppur con un numero limitato di telecamere è funzionante e in collegamento con la centrale della Polizia di Stato. I rappresentanti delle aziende hanno richiesto di istituire degli accessi controllati con barriere automatiche nella zona industriale e nel contempo si sono impegnati a verificare l'opportunità di istituire un servizio integrato di controllo del territorio a cura di metronotte, con oneri a carico delle stesse aziende insediate. Il consorzio, con fondi IRSAP, spiega ancora Catania, si è impegnata ad avviare immediatamente, oltre che i lavori di manutenzione per la pubblica illuminazione dell'agglomerato Nord 1 e della rete stradale, di avviare ogni ulteriore azione che si riterrà opportuno per migliorare la sicurezza dell'agglomerato di Contrado Brucazzi, in sinergia con le forze dell'ordine.